questo senti un olio e non massaggio prima lo scato tra le mani in modo che sia perfetto in qualità e stendere 8, 10, 16, 17, 17 ehi 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 allora com'era l'acqua? era fresca? ti è gustato il bagno? ebbene lo so gusta tantissimo il bagno c'è un caldo però ma ti si accorda che sei tutto? è tutto rosso qui tutto rosso sul naso ma anche le spalle e la crema solare potevi dire? te lo ti prestavo la mia? vabbè non ascolta adesso ti asciuga un attimo il viso poi ti metto un po' la crema solare ok? che qui secondo me ti spelli in 3, 2, 1 ti asciuga un po' qui il collo ecco qua ti tampono il viso perché secondo me è un pochino irritato eh sì sì oggi c'è caldo eh però fortuna che la piscina è fresca ti è gustato il bagno? sì adesso ci rilassiamo un pochino ok ti godi un po' il fresco che ti ha regalato l'acqua della piscina d'accordo ok allora adesso voglio applicarti questa crema protezione alta 30 apposita per il viso non ti preoccupare te ne metto poco 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 ti faccio vedere ecco qua tanto così per tutto il viso vieni qua ok fronte guance naso e mento e vado a spalmartela con delicatezza ok? bene ancora un pochettino la porto anche giù sulle orecchie ok bene sulla fronte ok benissimo benissimo adesso invece vado a metterti questo olio solare allora quello di prima era della Coop ma io ci trovo molto bene questo invece è un olio solare SPF sempre 30 dell'Alchemilla che è un'azienda di cosmetici eco bio era da un po' che cercavo un solare del genere ho appena iniziato ad usarla l'ho usata per due giorni mi ci trovo molto bene ok questa è molto facile da applicare sì una 30 è sufficiente perfetto ok ho uno spruzzatino qui ecco qua questo sentì un olio e mi massaggio prima lo scato tra le mani in modo che sia perfetto poi da estendere sulle spalle ok perfetto ecco qui ti faccio anche un leggero massaggio molto delicato perché so che comincia un po' a far male la scottatura d'accordo ecco qua ti gusta il massaggio bene d'accordo qui Alchemilla ok 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 là ho anche un puro cacao di questa marca ed è pazzesco ok ok allora vuoi far merenda? ho un po' di tutto con me in realtà vediamo aspetti intanto che è venuto a caldo e uno spray e uno spray si si abbondo è semplice acqua fredda quasi chiamsata e mi intrasca tantissimo veramente allora vediamo se hai fame posso avere allora ho dell'anguria e un pezzottino nemmaso io sono a posto così quindi se vuoi ho dell'anguria oppure posso avere vediamo se ti va uno snack salato un po' più grasso ho queste patatine e il dorata queste sono purissime grigliate più spessa e gustosa vabbè vabbè se le mangi non ti fai problemi sui cassi almeno io no c'è una volta che le mangio quindi prendi l'anguria poi serviti comunque non c'è problemi e sono piena di queste cose e ascolta adesso io mi vado a prendere un un bicchiere d'acqua ghiacciato tu vuoi qualcosa da bere? dell'acqua? ok con ghiaccio? no torno subito basta così ok tieni e per me ho dell'acqua ho del insieme ok 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 guarda che si fa anche l'acqua ghiacciata sicuramente non è un po' di ansia tra l'altro non sapeva ma io adoro il suono di ansia allora dopo io direi che ma potremmo sia andare all'ombra a riposarci un pochino sì queste sono quelle sono queste qui sono quelle da scala 40 speriamo ci sia un pochino speriamo ci sia un pochino secondo te io non ho la palla per giocare è un po' sporca perché sai che l'altro giorno te l'ho chiesto tu non c'eri sì siamo andati a giocare a beach allora è un po' sporca effettivamente però poi effettivamente mi manca a giocare a balla ora però è un po' sporca questa l'ho presa questa l'ho presa un po' alla decadone è proprio una palla è una palla da beach ce l'ho sempre in macchina di solito perché si sa mai che si voglia un po' di palleggi due palleggi bene allora adesso io direi che io mi rimetto la crema perché e poi intanto fai pure merenda e dopo andiamo a giocare a giocare con la palla o giocare a cat come vuoi come vuoi ancora l'altro giorno guarda qui ho preso proprio il segno della canottiera tra l'altro mi sono apprezzata un brazzo più che l'altro c'è una roba sempre così anche qui ma veramente è buona ha un olore molto molto delicato comunque e pur essendo un olio non è sentire un eccessivamente appiccicoso anzi da comunque quel glow non saprei come dire che è molto bello sotto al sole esatto no vabbè io ti aspetto tu manzo pure ma tra l'altro e è è talmente vecchio che ancora il prezzo sia in lire che in euro però alla fine le spiagge sono sempre qui si 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 guarda qui che bello rubinare questo va dando i voti alle spiagge migliose si lei li colleziona io riprendi il prezzo da me va bene andiamo hai finito hai mangiato poco va bene ok perfetto vuoi giocare a carte o giocare un po' a pallavolo va bene va bene dai così stiamo un po' all'ombra e poi nel caso giochiamo a pallavolo d'accordo allora si andiamo di la ok 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 ecco 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 mi dà il caldo quando la pelle di capace lo intendo del mare lo sotto quindi la cima del neuro sopra i 2 mila metri ne ho poco tocco sentite le immagini si è mancato un rosso questo rosso l'oriente come faccio il nodo per un pesatore che si facciate bene grazie faccio un pochino questo brazzo per te ci sono il pezzo per un lino unitero 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 smerolto il sanguiero per amare le bocchie questo è un certo unicare secondo me unitero unitero ne ho sume unitero e ve stigo unitero ... una prossima Sì Per noi sono costate un milione, certo, che confrontano con tutte e altre duppe bellissime e loro ho fatto tutto di origine, ma comunque l'eccellenza, con il minimo di afferenza per segnalare comunque il bellissimo peccato di sostenere di mondo, la superosa di sangue, anche la spiaggia topa, selezionate per l'entruttore 10 palombo, ci si trovano? 10 palombo, di scia, di fine sabbia bianca, di piccoletto, un reggio di colore, lo sottopine che costa giù, tutto l'utoreale, dove il profumo della resina si confonde con l'utore della sangue anche il passaggio è molto suggestivo, proprio di fronte a 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 front è un'antica maniera di amianto dell'eropena, si prendeva con i mali qualche volta polverosi con il tuo prezzo una delle più belle fuori a base per la strada umana, le cordone di sabbica e prima, non corretti, ma distratto che non so di porto vecchio è un'antica maniera di amianto, uno dei primi club meditare, punta palazzo, questo è un'antica maniera, in particolari pochi delle palese, se ne pareteva un picco su un'arriciata